Ciao, buongiorno Aureliana, oggi sei qui in qualità di rappresentante dell'associazione Fiore Blu. Ci vuoi raccontare un poco cosa fai tu per l'associazione e di cosa si occupa la vostra associazione. Allora, buongiorno, l'associazione Fiore Blu è nata a gennaio del 2008 a Terni con lo scopo di ricreare un collegamento tra la comunità rumena e l'Italia dove viviamo e dove svolgiamo le nostre attività. Però questa associazione ha lo scopo di non far dimenticare comunque le nostre radici. Diciamo che la necessità di avere uno spazio culturale ed educativo per i nostri figli per avere uno sportello di informazione per i nostri connazionali. Ok, quindi quali sono le attività in particolare che portate avanti? Le nostre attività sono iniziando con le attività di etnografia e cultura rumena, attività di sostentamento alle famiglie rumene, alle famiglie miste e attività di insegnare e di amalgamare le due culture, la cultura rumena con la cultura italiana, di far sì che la convivenza e le relazioni interpersonali tra la comunità rumena e l'Italia siano molto strette, sì, strette. E non farci sentire a noi fuori luogo, ma al contrario sta c'è dentro in una grande comunità, ecco. E più o meno qual è l'ampiezza della vostra associazione? Allora, noi siamo sette soci attivi, però diciamo nell'arco del tempo possiamo raggiungere anche centinaio di soci magari che contribuiscono, che collaborano con la nostra associazione. Ci sono i soci volontari, insomma, che di tanto in tanto, a secondo il progetto che mettiamo in campo, partecipano alle nostre azioni. Ci vuoi raccontare un progetto, un'iniziativa che è stata particolarmente significativa per voi che avete portato avanti durante la vostra attività? Allora, è difficile scegliere perché ne abbiamo avute sbagliate attività, però un'attività che diciamo che è tra le più importanti è lo scaffale in lingua rumena, che è praticamente l'angoletto che è stato creato nella biblioteca centrale, dove ci sono dei libri in lingua rumena e lo sportello per le informazioni in quanto assistenza in lingua rumena, insomma, per far sì che i figli, i bambini della seconda, la terza generazione, insomma, riescono un pochino a conoscere la lingua dei genitori e dei nonni. Certo, quindi una grande parte della vostra anima associativa è della promozione culturale della vita d'origine. È molto interessante questo lavoro che fate. Sì, sì. E da quando è cominciata questa pandemia? Le vostre attività ne hanno risentito? Siete riuscite a inventare nuovi modi per comunque mantenere attivo questo lavoro importantissimo che fate nel tessere i legami con la comunità locale? Siete riuscite a mettere in piedi qualcosa? Siete rimasti attivi con delle iniziative? Allora, in questo momento particolare siamo bloccati, però è tutto sospeso, diciamo, in grande linea. È rimasta soltanto la collaborazione per lo sportello per i migrati e si svolge in remoto con un sostegno di ANCI e CESBOL. È l'unica, per adesso, l'unica operazione, chiamiamola così, che riusciamo a svolgere. Per il resto... E ci vuoi raccontare un po' più nello specifico le attività di questo sportello? Allora, di questo sportello, che cosa vi posso dire? Che da tutte le informazioni per quanto riguarda la cittadinanza, per quanto riguarda la cittadinanza non nel senso di ottenere una cittadinanza, anche, compresa anche quella, ma per quanto riguarda la cittadinanza in generale. Cioè, per quanto riguarda qualsiasi informazione che una persona, un immigrato, ha bisogno di saperla, di averla, magari, che ne so, dalle informazioni legate a cose, insomma, specifiche, nel senso che, ne so, come ottenere un medico piuttosto che altre cose legate alla scuola, legate, insomma, così, ecco. Ok, quindi è uno sportello di orientamento... Di orientamento, sì, anche di sostentamento e orientamento, perché sappiamo che alcune persone, ma non solo della nostra comunità, ma anche di altre etnie, magari non hanno, non sanno che possono andare, che ne so, al centro per l'impiego ad iscriversi, oppure, cioè, allora ci vengono a chiedere informazioni e ottengono tutte le informazioni, insomma. Benissimo. E a livello territoriale, voi siete su Terni o avete, state pensando, crescendo, di espandere, o avete già delle collaborazioni anche al di là della città, diciamo? Allora, cioè, noi siamo in Italia, però quello che posso dire è che abbiamo avuto dei progetti in collaborazione anche con il nostro paese, con la Romania. Abbiamo svolto qualche anno fa dei progetti con altre associazioni, ma principalmente sul territorio qui, principalmente a Terni, ma abbiamo avuto collaborazioni anche con altre associazioni sul territorio italiano e, come ho già detto prima, anche con la Romania. Ok. Poi ti vorrei chiedere, come mai il fiore blu? Cosa significa, cosa rappresenta il fiore blu? Allora, come mai il fiore blu? Il fiore blu, da noi è un fiore che simbolizza l'immensità, il cielo, la libertà. Il fiore blu è anche un fiore protetto, il fiore blu è un fiore che nasce, cresce su un terreno non tanto, come posso dire, non tanto facile, semplice, cioè non è che... e quindi ha bisogno di... e allora abbiamo la mia collega perché io sono entrata un po' più tardi nell'associazione, quindi... però avevo chiesto la prima cosa, come mai il fiore blu? e poi... ecco. Benissimo. Per chiudere ti vorrei chiedere se c'è una parola che senti particolarmente rappresentativa della vostra associazione, del vostro spirito, dei vostri valori. Una parola che legheresti alla vostra attività. Una parola che legherei è l'impegno, perché l'impegno è quello che ci vuole per creare progetti, per portare avanti un'attività. Poi un'altra parola è la passione, anche perché l'associazione è non profit, quindi non è che vendiamo, compriamo niente, ma bensì cerchiamo di portare nelle case, non nelle famiglie, un pochino del nostro paese, nella nostra cultura, delle nostre tradizioni, per non dimenticare, perché ci sono famiglie che sono qui in Italia da, come dicevo prima, sono alla seconda, alla terza generazione. Io pure sono qui da più di 25 anni, quindi bisogna ricordarsi ogni tanto delle nostre radici. E noi facciamo questo, ecco, nel nostro piccolo. Benissimo. Grazie mille, allora, per averci dedicato questo tempo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, perché ci avete sopportato. Un piacere, veramente. Speriamo di poterci incontrare presto. Eh sì. Speriamo. Speriamo, incrociamo le dita. Incrociamo le dita e in bocca al lupo per il vostro importantissimo lavoro. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti